Eccoci, ciao, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Oggi è il 23 luglio, è martedì sera, sono le 20 e come sempre il martedì siamo in diretta. Bene, questa sera parliamo di varie cosette, di varie cose interessanti al nostro computer, di varie cose interessanti per quanto riguarda il nostro computer, di una cosa fondamentale, devo dire, nell'utilizzo del computer. Prima però volevo rispondere a un paio di domande che mi avete fatto in settimana e dire anche che più tardi alle 21.30 sarò in conferenza, saremo in conferenza perché potete partecipare anche voi dal sito Amici di Maggiolina e questa sera lavoreremo sullo smartphone, faremo dei lavori sullo smartphone, dei lavori grossi sullo smartphone perché proviamo a cambiare il sistema operativo. passeremo da un Android 8 a un Android 9, sempre che si riesca a fare. Per cui se avete tempo e se vi va di vedere questa cosa, partecipate perché sarà una cosa unica. Solo questa volta possiamo fare il salto da un Android modello vecchio a un Android modello nuovo. Grazie Enzo per l'uso della Super Chat, grazie infinite. Bene, partiamo dalle due domande che mi avete fatto. Me le avete fatte via email e potete scrivermi sempre a info-associazionemaggiolina.it Allora, la prima domanda è di una nostra amica che mi chiede questo. Io ricevo un email con una fattura, una fattura telefonica nello specifico. La voglio mettere in una cartella nel mio desktop. E mi ha detto la procedura che fa e mi chiede, ma c'è un giro più corto? Si può fare in un modo diverso? Allora, vediamo qual è il discorso. Quindi la nostra amica ha sul desktop una cartella con scritto fatture. Per cui la creiamo anche noi. Faccio tasto destro, nuovo, cartella e la chiamo fatture. Intanto ringrazio Bruno per l'uso della Super Chat, grazie infinite Bruno. Ok, quindi io ho qui la mia cartella fatture. Voglio far andare a finire qui dentro tutte le fatture che ricevo, fatture telefoniche, fatture di altre forniture, fatture in generale. Ok, allora la ricevo via email. La nostra amica la riceve via email. Quindi io ho aperto un altro browser con una mia casella email, in questo caso la mia personale, con una fattura. Questa è una fattura telefonica di una ricarica del mio operatore telefonico. Ok, quindi questa è l'email, qua in alto c'è l'intestazione, eccetera, eccetera. E questo è l'allegato. Ora, innanzitutto, come si fa a metterlo là dentro? La nostra amica diceva ho provato a copiarlo ma non funzionava. Effettivamente non funziona. Il procedimento giusto con un allegato è quello di scaricarlo all'interno del computer e poi posizionarlo dove si crede che sia più opportuno. Allora, innanzitutto, un allegato di Gmail, quindi io sono in Gmail, ho il mio allegato e posso fare varie cose con questo. Quando ci vado sopra con la freccia del mouse, eccomi, in questo momento io ho tre possibilità. Se faccio un click in questa posizione, in una posizione qualsiasi di questo rettangolo, ranne che sui due pulsanti, quindi se faccio un click qua, l'allegato si apre e vedo la fattura. Ora io non ci vado per non mostrare intestazioni e quant'altro. E si vede la fattura. Da lì la posso guardare, la posso stampare, la posso scaricare, posso fare varie cose. Ma dato che il mio intento è quello di metterla nella cartella che abbiamo visto, posso fare in un modo diverso, non ho bisogno di aprirla. Posso usare questo pulsante per scaricarla. Questo scarica la fa arrivare nel mio computer. Oppure questo pulsante la salva in Google Drive sulla nuvola. E in questo caso il salvarlo sulla nuvola non ci aiuta, sarebbe un passaggio in più, perché poi dovrei andare sulla nuvola a prenderla per scaricarla all'interno del mio computer. Quindi salvarlo sulla nuvola ha un'utilità di altro genere per altri scopi in un altro momento. Noi lo vogliamo scaricare nel nostro computer. Quindi premo scarica e il mio allegato arriva. Ecco, in questo caso il mio computer, questo è Firefox, mi chiede cosa voglio farne, dove voglio salvarlo, eccetera, eccetera. Ho dovuto usare Firefox perché questo account ce l'ho su Firefox e quello di Google lo sto utilizzando per la diretta, e quindi non posso simulare Google Chrome, quindi l'account che utilizzo su Google Chrome non può aprire queste email. Quindi, vabbè, dico semplicemente ok. Ma se io fossi in Google Chrome, quando premo questo pulsante, il messaggio, l'allegato scende, arriva, viene scaricato qui dove c'è, come dire, in questa posizione qui in basso a sinistra, si vede l'allegato che viene scaricato. Firefox lavora in un altro modo e l'ha scaricato in quella posizione lì. Ma il concetto è sempre quello. Marco mi dice, si può fare con filebat? Certo che si può fare, volendo si potrebbe sistemare questa cosa. Ok, intanto saluto Edo che ci ha salutato anche lui. Va bene, quindi, prima operazione, scaricare l'allegato. Ora facciamo come fa la nostra amica per vedere se possiamo poi trovare una strada più corta. Intanto vediamo un po' come organizzarsi. Allora, rimpicciolisco il mio browser Firefox. Avrei potuto anche chiuderlo, non mi serve più l'allegato. È già nel mio computer. Vado ad aprire Esplora File. Vado in Download. Ed eccolo qua. Questo è il mio allegato. Ora, la nostra amica mi dice, io lo sposto sul desktop e poi lo metto dentro la cartella. E quindi, ora non so bene come faccia, ma posso immaginare che faccia in questo modo. Così, sul desktop e la lascia andare in quella posizione lì. Vediamo se è arrivato. Quindi rimpicciolisco ed ecco il mio allegato sul desktop. È stato copiato. È rimasto in documenti ed è anche in desktop. Va bene. Poi lo prende e lo butta dentro Fatture. Ok. E a questo punto, se io vado in Fatture, ecco qua, vedo il mio allegato. Bene. Che strade più corte potrei fare? Allora, innanzitutto, lo vado a cancellare. E così torniamo nella situazione originale. Vado in Download e cancello anche questo. Così torniamo alla situazione originale. Allora, strade più corte per fare questa cosa. Strade più corte che ci vengono in mente. Vediamo cosa dice Marco. Ok, va bene. Dice, se magari hai tempo, potresti mostrare anche questa cosa qui. Certo, Marco. In uno dei prossimi video, perché no? Allora, torno in Firefox. Scarico di nuovo l'allegato. Allora, un primo passaggio potrebbe essere questo. Io potrei regolare il mio Firefox o il mio Google Chrome, quindi il mio browser internet in generale, quale che sia, affinché, quando chiedo di scaricare un file, venga scaricato sempre all'interno di quella cartella, della cartella fatture. E in questo caso, non è tanto furba questa cosa, perché funziona ed è il luogo giusto per le fatture, ma per tutti gli altri allegati non ha senso che vada a finire in fatture. E quindi, non è una buona regolazione. Però questo sarebbe il passaggio più veloce. L'altra cosa che potrei fare è impostare il mio browser affinché mi chieda tutte le volte. Quando io dico scarica, lui mi mostri una finestra, tipo questa, dove mi chieda dove lo mettiamo e io posso andare a scegliere in fattore, in documenti, in immagini, in foto, eccetera. E questa è un'impostazione abbastanza giusta. Devo dire che sono tutte giuste in realtà, ognuno sceglie a proprio piacere. Devo dire che tutti, alla fine, preferiscono che venga scaricato in download, che gli allegati vengano scaricati in download, perché così sono circoscritti in una determinata posizione ed è possibile poi andarli a prendere e fare altre cose. Quindi, non vorrei agire sul browser, mi sta bene che vadano in download. Quindi, ok, scaricamelo in download. E qui ci siamo, quindi fin qua non si poteva fare niente di diverso. Ora, se torno in esplora file e torno in download, ecco il mio allegato. Come fare in modo che arrivi direttamente nella cartella fatture, senza fare dei passaggi aggiuntivi? Potrei fare in questo modo. Allora, questa voce desktop è la stessa che si vede qui. Questa è una scorciatoia, anche se in realtà anche questa è una scorciatoia, quindi sono uguali. Però questa, e quindi proprio la stessa cosa, premere qui e premere lì va a finire nello stesso posto. Tirare il mio pdf qui, trascinarlo lì e trascinarlo qui è la stessa cosa. Se non che questa è la zona di esplora file dove io posso andare a cercare le cose all'interno del mio computer. Quindi, questo desktop ha anche una freccina che posso andare a premere. Questa freccina, una volta aperta, mi mostra tutte le cartelle presenti sul desktop. una in questo caso perché è caso strano a un desktop particolarmente ordinato in questo periodo. Quindi io potrei prendere il mio documento e andare a trascinarlo direttamente in fatture da qua avendo cura di fare in modo che la punta della freccia del mouse sia esattamente su fatture o sulla parola o sul disegno ma sia in fatture non che ci sia il disegno. l'icona del pdf non va bene in questa posizione. L'icona del pdf in questo caso è solo per vedere che è con me ma è la punta che decide il luogo. Se ci fate caso ora vicino alla mia freccia c'è scritto più copia in fatture. Se io mi sposto mi dice sposta in documenti lo fa in altri posti. Quindi copia in fatture così. se lo lascia andare in questa posizione va direttamente dentro fatture. Fatto. Quindi io posso tornare sul mio desktop aprire fatture ed eccolo direttamente qua. Quindi ho risparmiato un passaggio. Potrei risparmiare un passaggio facendolo in un altro modo magari è un po' più semplice. Ce ne sono un sacco più ne parliamo più mi vengono in mente. Allora questo lo cancelliamo eccolo qua. Allora torno in download download eccolo qui potrei e questo è il mio file potrei fare in questo modo rimpicciolire un po' la finestra eccola qua questo è il mio file di download lo prendo e lo butto direttamente dentro fatture e in questo modo è andato a finire direttamente in fatture. Questo forse è il procedimento più facile. Ora lo cancello chiudo torno qui sul mio download un altro modo potrebbe essere questo allora faccio tasto destro copia o taglia approfondiremo meglio questo discorso il copia lascia una copia qui e lo mette anche di là in questo caso preferirei il taglia toglilo da qui e mettilo solo di là quindi l'ho tagliato chiudo vado in fattore tasto destro in colla ed ecco qui il mio file che è arrivato nuovamente. Grazie Aldo per l'uso delle super chat e per l'incitazione ad usarla per noi è veramente molto importante grazie infinite Marco dice ma così non crei un collegamento? No in ora in questi modi noi abbiamo o copiato o spostato il file il collegamento è un altro discorso che andiamo a vedere tra poco e non sarebbe giusto creare un collegamento dobbiamo proprio copiare o spostare il file nel caso della fattura io lo sposterei più che copiarlo quindi userei il taglia anziché l'incolla perché in documenti in download scusate questa fattura non ha più senso che ci sia l'ho scaricata è arrivata in download da lì la prendo e la sposto nel luogo giusto nella cartella fatture e lì sta non mi serve avere altre copie in giro anzi fa solo confusione allora questa la cancello un altro sistema potrebbe essere questo torno nel browser perché devo scaricarla di nuovo adesso visto che l'ho cancellata la scarico firefox mi chiede e io gli dico ok la fattura arriva vado in esplora file ne ho aperti un po' li chiudo per tenermi uno solo allora download eccomi qua ok questo è il mio file lo seleziono potrei dire da qui sposta in o copia in come immagino che stia suggerendo Andrea in questo caso in super chat allora sposta in abbiamo detto che preferisco spostare anziché copiare perché qui non la voglio più questa fattura non mi serve la voglio solo dentro fatture e prendo la freccina non fa niente allora clicchiamo ah sì ok ecco lo che arrivava freccina o in questa posizione ottengo lo stesso risultato e si allungano tutte quante le cartelle io a questo punto dovrei cercare il desktop ammesso di riuscire a trovarla da qualche parte e spostarcela dentro vediamo un po' desktop la vedo ma qui vedo solo desktop mentre io invece vorrei andare direttamente in abbiamo detto fatture questa direi che è fatture ma non sono convinto che sia quella giusta perché vediamo se io attendo un attimo dovrebbe darmi il percorso non me lo dice allora mi sposto un attimo questo è il percorso mi sposto su e attendo questo è il percorso c utenti daniele desktop sì questa fattura è quella giusta e me ne sono accorto da questa scritta che è venuta fuori lì sotto c utenti daniele desktop quello è il percorso che è l'altro argomento di cui vogliamo parlare questa sera perché è molto importante quindi da questa cosa io ho potuto capire che questo fatture è proprio quello che interessa a me è proprio la cartella che interessa a me quindi ho scelto sposta in fatture faccio click e il file è sparito da qui perché è stato spostato in fatture se chiudo e vado in fatture ecco qua il mio file e devo dire che poi di modi per fare questa cosa ce ne sono un'infinità in realtà basta farne uno che si riesce a fare e un po' alla volta si trova quello che è il meglio per noi stessi non ce n'è mai uno giusto e uno sbagliato non fa niente se uno fa un passaggio in più o uno fa un passaggio in meno è una scelta personale in base a quello che si riesce a fare e fino qua ci siamo entrando nel discorso collegamenti e questa cartella fatture questa cartella fatture non è nel posto giusto sul desktop non va bene tenere delle cartelle lo so che ce le abbiamo tutti ma non è un buon posto dove avere la nostra cartella perché è facile cancellarla accidentalmente a volte premendo dei tasti senza volere o toccando male col mouse vi garantisco che sparisce poi mi scrivete dicendomi ma è è sparita la cartella delle foto è sparita questo ma io non ho fatto niente eccetera in realtà la colpa è 99,9 999 9% nostra quindi quindi o abbiamo agito male o comunque abbiamo siamo stati imprudenti tenendo la cartella sul desktop questa cartella contenente i documenti importanti quali le fatture non deve stare qui mi è comodo averla qui perché con un click le vedo ma non deve stare qui deve stare all'interno del computer in un luogo più sicuro quindi la voglio mettere in documenti apro il mio esplora file per comodità rimpicciolisco un po' la finestra e questa fattura la prendo e la butto dentro documenti ora il mio computer si ostina ah ecco perché dice copia il mio computer dovrebbe spostare invece copia perché copia che di solito dovrebbe spostare lo fa perché il mio documenti non è nel disco C io sul mio computer e ora ve li mostro eccoli qua vado in questo PC ingrandisco meglio la finestra sul mio computer ho un disco C un disco D e poi altri dischi che servono a me ma principalmente questi due quando io prendo qualcosa da un disco e lo sposto in un altro nel mio caso nel mio computer download è dentro il disco D e il desktop è dentro il disco C quando sposto qualcosa quando trascino qualcosa da un disco all'altro anche se inavvertitamente perché in questo caso io sto semplicemente prendendo un file fattura da una parte e lo sto mettendo da un'altra parte questo file fattura però il computer sa che questo spostamento questo trascinamento avviene da un disco all'altro quindi effettua un copia anziché un incolla perché si sposta da due dischi ma solitamente sarebbe un incolla chiusa parentesi immagino che fa un po' di confusione e Marco 62 mi chiede anche se è una partizione sì i due dischi il computer li vede come due dischi sia che siano fisicamente due dischi sia che sia sia che si tratti di due dello stesso disco diviso in due quindi il computer lo percepisce come due il computer percepisce come disco C e disco D in entrambi i casi quindi questo trascinamento genera una copia perché sono due dischi diversi per lui ok chiuso il discorso quindi dovevamo prendere questo fattore e metterlo in documenti abbiamo detto quindi apro il mio esplora file rimpicciolisco la finestra prendo il mio fattore e lo butto dentro documenti ora premo un tasto lo shift eccolo qua per far sì che avvenga lo spostamento non voglio approfondire adesso questo discorso però sto prendendo questa cartella e la sto spostando in documenti lascio e la mia cartella è stata spostata ho forzato lo spostamento anziché il copia lo approfondiremo un'altra volta non voglio mescolare troppo troppo le cose quindi ho preso la mia fattura l'ho messo in documenti ok qui è più sicura all'interno se io devo andare nella mia fattura devo fare un giro più lungo però è bello al sicuro questa cartella per cui è meglio che sia così è però era più comodo prima cioè io non riesco ad abituarmi a fare tutto questo giro ce l'avevo qui bella sul desktop era meglio ok la vogliamo sul desktop allora facciamo un collegamento quindi sono in esplora file entro in documenti trovo fatture eccola qua tasto destro del mouse invia quindi tasto destro del mouse invia desktop crea collegamento premo ed ecco qui la mia cartella fatture c'è anche scritto collegamento che io posso ora andare a togliere intanto ringrazio Pina per l'uso della super chat grazie Pina per noi è importantissima vediamo cosa dice 100% si possono togliere le partizioni dal computer ad esempio ho 200 giga e ne faccio due da 100 posso ritornare a 200 giga sì puoi dividere puoi unire i dischi attenzione che non sempre le cose poi possono essere fatte dipende da cosa hai fatto nel frattempo su questi due dischi perché rischi di perdere delle cose da uno dall'altro o a volte non si riescono a riunire per questioni tecniche quindi in linea teorica sì tante volte sì ma se c'è qualche volta che non lo fa è perché è un caso eccezionale e non si può fare e quindi ci siamo ecco come dice Marco è pericoloso ok quindi tornando a noi chiudo la mia finestra questo è un collegamento ora questo fatture qui è tale quale a prima è la cartella fatture solo che di fatto non è la cartella fatture è solo un pulsante per raggiungerla se io premo qui due volte ecco che il mio computer apre documenti apre esplora file apre documenti apre fatture e io qui ho le mie fatture però ottengo che le mie fatture sono al sicuro all'interno del computer a un livello più interno ma al tempo stesso le raggiungo velocemente tanto quanto prima clicco due volte ed eccole qua se accidentalmente cancello questo che è un collegamento mi accorgo che questo è un collegamento perché ha questa freccina qui questa freccina dice che è un collegamento quindi se vado a guardare le altre icone il cestino è un oggetto reale non è un collegamento questo è un collegamento questo è un collegamento questo invece è un oggetto reale la differenza con i collegamenti è che se io butto via questo oggetto reale lo butto nel cestino questo non esiste più se invece io prendo il mio fattore mi sbaglio oppure dico via lo butto nel cestino ho cancellato solo il collegamento solo il pulsante se voglio tornare ad utilizzare le mie fatture apro esplora file vado in documenti ed ecco qua le mie fatture clicco due volte e qui c'è proprio la fattura e la posso utilizzare a tutti gli effetti quindi è una cosa che dico spesso ai corsi base 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 le prime volte anche se spesso le prime volte non abbiamo proprio la capacità di gestire bene questa cosa non teniamo cartelle sul desktop le cartelle dentro in documenti in immagini dove volete non in download perché non è il posto giusto in download è solo la roba che è scaricata da internet poi facciamo dei collegamenti tasto destro invia desktop eccetera parentesi la voce crea collegamento premo ed ecco qua di nuovo il mio collegamento questa parola collegamento mi scoccia non mi piace la voglio tirare via tasto destro rinomina significa cambiammi nome rinomina tanto grazie Ennio per l'uso della super chat importantissima grazie poi faccio clic in un punto vuoto dopo la scritta quindi subito dopo la O di collegamento clic uno ho il cursore lampeggiante e col tasto backspace il tasto indietro per cancellare all'indietro cancello tutto e tengo solo il nome fatture fatture eccola qua quindi questa è la mia icona fatture e da qui posso gestire le mie cose e attenzione che se io scarico una nuova fattura la posso buttare dentro al collegamento cioè io la posso buttare nel collegamento e lui la veicola dentro documenti quindi posso continuare a fare le cose come le facevo prima se sono abituato ad un certo movimento quindi questo è a tutti gli effetti in sostituzione della cartella fatture solo che la cartella fatture è in un luogo più sicuro in definitiva vediamo cosa dice Rita ciao ma le cartelle che spariscono dal desktop si può vedere dove finiscono sì in linea di massima ciò che sparisce dal desktop va a finire nel cestino quindi se io cancello qualcosa dal desktop presumibilmente dovrei trovarlo nel cestino ma ti garantisco che quando fai questa cosa con cose importanti e non sai perché l'hai fatto e non non ci sono più oppure non ti viene in mente di guardare nel cestino oppure nel cestino c'è un mare di roba e non vedi la tua cartella fatture oppure come è capito tra me quando mio figlio era piccolo che ha dato ha raggiunto il computer era altezza di computer ha dato con la mano un colpo sulla tastiera ha cancellato mezze icone del desktop per fortuna erano solo collegamenti perché tra l'altro erano spariti chissà dove quindi non fidiamoci del poter recuperare le cose perché poi bisogna avere anche la freddezza quando perdi un qualcosa di importante si fanno mille cose che poi magari evitano di recuperare la cosa cioè fai dei danni ulteriori mentre invece basterebbe andare nel cestino ma non sempre che anche dal cestino si possono cancellare le cose allora intanto ringrazio Rino per l'uso della super chat e anche Giovanna grazie ragazzi per noi è un sostegno importantissimo vediamo cosa dice Oscar se per sbaglio cancello un file nel cestino si può recuperare ni nel senso che tutto quello che cancello dal cestino quindi io adesso vado nel mio cestino eccolo qua cancello il mio fatture o questa questa foto qui tasto destro elimina mi chiede conferma quindi siamo sicuri ah tra l'altro alcune impostazioni di Windows ora non so se Windows 10 con gli ultimi aggiornamenti ha cambiato oppure no c'era un'impostazione di Windows automatica che non ti mandava le cose nel cestino le mandava direttamente via quindi torniamo al discorso che si cancella una cartella dal desktop e il mio computer è impostato per non salvare nel cestino non usare il cestino addio alle cose ma Oscar chiedeva se posso recuperare qualcosa che ho cancellato dal cestino allora dico sì se ne è andato questa cosa qui non esiste più nel mio computer Windows al momento non può riprenderlo perché è stato cancellato non ha senso l'hai buttato nel cestino dal cestino l'hai cancellato ti ho chiesto sei sicuro sì basta cioè non è che dobbiamo continuare a recuperare intanto grazie sante per l'uso della super chat grazie mille ci sono dei programmi apposta che ti permettono di andare a guardare nel tuo computer sul tuo disco se ci sono dei file cancellati perché il computer ora non è andato a pulire cioè dove c'era quell'immagine non è andato là con la gomma a cancellare pulire tutto semplicemente dicevo spazio libero e quindi quando ne avrà bisogno ci scriverà sopra fino ad allora fin tanto che non ci scrive sopra con un programma speciale è possibile andare a cercare e recuperare le cose ci recuperano le cose ma non necessariamente tutto e non necessariamente proprio quello che ci interessa quindi prima di tutto evitiamo di cancellare poi se abbiamo fatto questa cosa qui e dobbiamo recuperare dovrei aver fatto un video su come recuperare questi file se non sono sicuro se la cosa era importantissima e quindi voglio avere la maggiore possibilità di recuperarlo spengo il computer e lo porto da un tecnico dicendogli quello che è successo in modo che lui quando lo riaccende prende delle precauzioni apposta perché spengo il computer perché se io utilizzo il computer durante questa settimana martedì prossimo passo davanti proprio al negozio del tecnico glielo allungo durante questa settimana il mio computer fa delle cose io lo uso navigo in internet niente di che ma lo uso potrei andare accidentalmente a sovrascrivere quel file che adesso è lì in attesa di essere recuperato quindi domani se ho usato il computer due ore questa sera potrebbe essere totalmente o parzialmente recuperabile quindi ho le maggiori possibilità di recupero se mi accorgo subito di averlo cancellato o perlomeno se quando mi accorgo che è sparito io lo spengo oppure utilizzo e lo porto dal tecnico oppure utilizzo la procedura di recupero dei dati perché voglio farlo voglio farlo da me allora vediamo cosa dice mister Iguana e se per sbaglio cancello il cestino si può recuperare il cestino è lo stesso discorso quando io svuoto il cestino tasto destro svuota il cestino sei sicuro? sì di fatto non cancello il cestino questo è rimasto come mai allora proviamo a chiudere e riaprire ok era solo un problema di visualizzazione di fatto io non cancello il cestino svuoto il cestino del suo contenuto svuoto i file in realtà quindi così per uno così per tanti ci sono tanti file cancellati in questo momento tolti dal cestino col programma per recuperare qualcuno lo trovo sicuramente 100% Windows dice dove vanno i file che eliminiamo dal cestino come dicevo prima da nessuna parte restano lì nella stessa identica posizione di prima semplicemente viene considerato spazio vuoto come le videocassette registriamo la partita non faccio in tempo a vedere la partita la registro sulla videocassetta dopo che l'ho guardata quella videocassetta lì per me è vuota nel senso posso riregistrarci sopra ma fin tanto che io non ci riregistro sopra lei è in grado di riprodurmi nuovamente la partita quindi è semplicemente nello stesso posto di prima solo che non sono più raggiungibili dal sistema operativo perché gli ho detto che per me non esistono più Aldo allora Daniele se vai su ripristina tutti gli elementi ritornano al suo posto e no è diverso questo discorso allora intanto io non ho ripristina tutti gli elementi in questo in questo discorso allora torno in esplora file chiudiamo tutto vado in esplora file vado in documenti la cartella fatture non mi serve la cancello cliccata elimina lei è andata nel cestino nel momento in cui ho cliccato elimina il cestino si è riempito non so se ci avete fatto caso con la coda dell'occhio ok quindi cancellato ora se io vado qui nel cestino la trovo questo ripristina tutti gli elementi me la rimette al suo posto sì ma finché io non la cancello se invece la cancello anche dal cestino tasto destro elimina sì ora il ripristina tutti gli elementi non funziona cioè se ho cancellato anche il cestino e basta non si può più non si può più recuperare grazie Giancarlo per l'uso della super chat allora Cristoforo dice rinominare premi F2 allora Cristoforo Cristoforo proviamolo subito vado in esplora file vado in documenti a questo punto non ho più la mia la mia cosa prendo qualcosa d'altro questo ciao lo metto sul desktop per comodità notare che lo prendo da qui e lo sposto qui il mio computer crea una copia perché questa cartella è sul disco D mentre il disco mentre il desktop è sul disco C è una cosa un po' strana perché non siamo abituati a lavorare con due dischi o perlomeno a rendercene conto va bene lo lascio qua ok quindi il mio ciao è qua voglio cambiargli il nome invece di ciao lo voglio chiamare Marco come possiamo fare ci sono vari modi e se volendo guardare è difficile anche dirle tutti allora il modo che vi ho mostrato io è stato quello di andare col tasto destro quindi di andare sull'icona tasto destro e poi scegliere rinomina e generalmente dico sempre quello per una questione didattica tra virgolette per come insegno a rinominare a copiare a incollare ok però ci sono altri modi un altro modo che a me piace di più sinceramente Cristoforo è questo fare un clic un primo clic sul nome il mio ciao è stato selezionato puoi fare nuovamente un clic sul nome in questo modo io posso già scriverci sopra e lo voglio chiamare Marco eccolo qua quindi un doppio clic clic un doppio clic ma lento quindi clic e poi clic nuovamente ora vediamo il sistema di Cristoforo intanto ringrazio Icaro per l'uso del super chat grazie infinite Icaro allora non l'ho mai usato questo qua di Cristoforo quindi devo premere F2 presumo però che prima di premere F2 io debba dire al computer quale di queste cose voglio rinominare quindi un clic qui sopra sposto pure la freccia del mouse premo F2 ed ecco che ho la voce rinomina posso mettergli di nuovo ciao e premo invio per confermare se io sono in questa situazione senza aver cliccato niente premo F2 vediamo cosa accade niente perché il computer non sa dove deve andare a lavorare bene e ci sono anche altri metodi se fossimo in Esplora File allora documenti zoom qui seleziono questo dovrebbe esserci anche qui la voce rinomina eccola qua e tra l'altro questa voce rinomina mi indica anche quell'F2 tra parentesi ora non posso andarci sopra col mouse perché appena ho sposto il mouse sparisce anche la voce F2 quindi quella F2 lì serve ad indicarmi qual è la scorciatoia tastiera quindi tutti questi pulsanti qua hanno una scorciatoia tastiera quasi tutti perché questo no questo ha control D elimina io uso anche canch vediamo il nuovo cartella control maiuscole e N proprietà alt invio apri non ce l'ha seleziona tutto control A deseleziona tutto niente perché basta muoversi da qualche parte inverti la selezione anche quello niente quindi abituiamoci che questi pulsanti questo dovrebbe essere il control X questi pulsanti hanno la possibilità di evitarci di muovere il mouse ma di digitare le cose a tastiera allora vediamo cosa dice 100% Windows oppure premere con il tasto destro e premere tre volte la lettera M fammi vedere allora spiegati meglio 100% Windows tasto destro e premere tre volte la lettera M vediamo M a me è bastato premere una volta sola a dire la verità per fare rinomina proviamo qua tasto destro M a me è bastato una volta sola quindi non so se magari un nuovo Windows abbia questa cosa qui non lo sapevo minimamente grazie 100% Windows ok e questo sono un po' di cose volevo rispondere anche all'altra domanda che mi avete che mi avete fatto e che mi fate spesso allora intanto questo ciao lo salutiamo lo butto nel cestino ricordatevi che il cestino va tenuto sempre vuoto ok ne parleremo in seguito ma ha senso avere le cose nel cestino e quindi utilizzare il cestino se poi lo tenete vuoto tasto destro vuoto il cestino sì allora vediamo Elvira cosa dice sono nuova intanto ciao Elvira allora ben arrivata volevo chiederti se con Excel si può calcolare anche il volume di un oggetto esempio l'acqua in un acquario sì io ho risposto poco fa a un'email sì si può calcolare qualsiasi cosa in Excel è in grado di fare qualsiasi calcolo bisogna sapere la formula cioè non è che Excel ha la formula per calcolare il volume d'acqua in un secchio in un acquario in una sfera eccetera devi sapere tu quali calcoli vanno fatti quindi diviso per moltiplicato e quello che è io non la so in questo momento la formula impostarla e lui ti fa il calcolo quindi Excel è un ottimo calcolatore però noi dobbiamo sapere la matematica di nostro poi ci sono delle formule di uso comune già preimpostate magari c'è anche una formula del calcolo volume però non ti so non ti so dire dubito non mi pare di averla mai vista sicuramente non l'ho mai usata Oscar si possono programmare i tasti per avere la spedizione rapida spedizione in che senso Oscar Marco perché non hai cancellato subito il nome nel ciao a me non interessa cancellare il nome quando è blu andiamo a rivederlo allora documenti zoom il mio ciao lo prendo qua allora se io vado in rinomina premo F2 eccolo qua ora a me non interessa cancellare ciò che è in blu se voglio scrivere Marco ci scrivo sopra la nuova digitazione coprirà tutto ciò che è blu in questo momento quindi scrivo Marco ed ecco fatto premo invio e confermo il nome di nuovo F2 se invece volessi scrivere Marco Bianchi a questo punto premo la freccia verso destra per avere il cursore tutto a destra quindi Marco non è più blu faccio uno spazio e ora aggiungo Bianchi e poi premo invio così è il discorso certo potevo a questo punto premere canci per cancellare il nome e scriverci sopra però è un passaggio in più quindi quando una cosa è blu quando un nome è blu non mi preoccupo di cancellarlo spero sia questo quello che ti interessava allora la richiamiamo ciao e vediamo cos'altro si dice ok Oscar dice la selezione rapida si possono programmare i tasti per avere la selezione rapida e quindi programmare perché f5 faccia una determinata cosa o meno si in linea teorica si ma non so dirti come in questo momento Davidino dice a me tasto destro più m non va vi invito a provare io non avevo mai provato questa cosa 100% Windows diceva tasto destro e tripla M quindi M M M provate e poi sappiatemi dire io non ne sapevo nulla di questa cosa ok allora avevo detto che dovevo rispondere all'altra domanda l'altra domanda non posso farvi vedere niente perché riguarda il telefonino e Google foto allora nella diretta di martedì scorso abbiamo parlato di Google foto e abbiamo detto e ribadisco perché è super importante le foto non è conveniente tenerle nel nostro telefonino perché riempiono il telefonino riempiono la memoria del telefonino se questo cade ce lo rubano o si rompe le foto spariscono e quindi noi le foto dei nipotini il compleanno il matrimonio non ci sono più perché le abbiamo perse quindi una volta scattate si usa Google foto per mandarle sulla nuvola così là sono più al sicuro abbiamo detto che se proprio vogliamo la super privacy evitiamo di mandarci quelle super mega personali e siamo e siamo a posto anche se se ci rubano il telefono a quel punto sono più private sulla nuvola che non nelle mani di qualcuno con il nostro telefonino per cui è sempre tutto molto relativo a questo punto mi si chiedeva ma le foto che ci sono sulla nuvola devono esserci anche in galleria oppure no allora e qui la precisazione Google foto è una app fornita da Google la galleria è un'altra app fornita sempre da Google in realtà perché è Android comunque una app del nostro cellulare Android entrambe mostrano le foto sono due app che fanno la stessa cosa solo che la galleria prende le foto dalla nuvola mentre la scusate solo che Google foto prende le foto dalla nuvola mentre la galleria prende tutte le immagini presenti nel telefonino quindi mostrano immagini mostrano foto entrambe ma una quelle della nuvola e una quelle del nostro telefonino quindi se le foto che ci sono sulla nuvola su Google foto ci sono anche nella galleria del telefonino non è una buona cosa perché vuol dire che allora le foto sono sì sulla nuvola ma sono anche nel mio telefonino quindi perdo il vantaggio di liberare lo spazio se le foto le ho già qui perché le devo tenere anche qui semplicemente da qui le voglio cancellare quindi c'è una funzione apposta in Google foto ma dove siete in Google foto in alto a sinistra mi dispiace di non poterlo mostrare in alto a sinistra ci sono delle righine si preme sulle righine si clicca su si tocca libera spazio cosicché Google foto guarda e dice tutte le foto che ci sono qui sulla nuvola le cancello dal telefono e di conseguenza una volta che le ho cancellate libero spazio sul telefono che torna ad avere più giga di memoria e spariscono dalla galleria però quindi la galleria non ha più senso non ci sono più ecco perché la galleria non ha più tanto senso nella galleria del mio telefono ci sono foto diverse rispetto alla nuvola perché quando mando su Google foto faccio libera spazio così libero qua però ci sono immagini tipo quelle di Whatsapp tutte quei buongiorno che arrivano di Whatsapp non li voglio mandare su Google foto perché non mi interessano buongiorno ok e poi si butta via quindi le foto di Whatsapp nel mio caso non vanno su Google foto perché non voglio salvo qualcuna che ce la metto io manualmente per cui la galleria per me ha ancora un senso perché ci sono delle immagini inutili tra virgolette che sono momentaneamente nel mio telefono perché sono arrivate e quindi le posso volendo gestire guardare cancellare spostare eccetera dalla galleria ma in linea di massima della galleria dovrei dimenticarmi dovrei abituarmi ad utilizzare Google foto almeno da inesperto o uno o l'altro quindi Google foto sostanza in sostanza altrimenti quando sarò più esperto tutte e due se cancello qualcosa da Google foto non viene cancellata anche nella galleria quindi deve essere proprio fatta l'operazione libera spazio allora vengono eliminate le foto doppie in galleria se cancello qualcosa dalla galleria non viene cancellato anche in Google foto perché le due cose sono disgiunte nel momento in cui ho messo le foto in Google foto solo da Google foto le posso cancellare ed è giusto che sia così per evitare di fare di fare pasticci e questa cosa qui crea un sacco di confusione a maggior ragione se nel computer ho una schedina SD di espansione di memoria lì è ancora peggio il discorso va bene vediamo cosa si dicono in chat avete trovato con la M eccetera e funziona allora Marco tasto tasto di nomero Veronica eccomi ci sono pure io ciao Veronica io ho reinstallato Google foto ma non ho impostato backup e sincronizzazione quindi Veronica di fatto non lo stai usando quando deciderai di utilizzare Google foto dovrai aprirlo e dirgli backup e sincronizzazione potrai scegliere a quel punto quali cartelle ma lo puoi fare anche in seguito e quindi decidere se magari lasciare fuori whatsapp o altre cose finché non fai backup e sincronizzazione Google foto non entra in funzione di fatto allora Rita scusa come faccio dal mio smartphone a mettere sulla nuvola ed è quello che stavo dicendo a Veronica ora non posso mostrarlo in questa situazione perché il mio telefono sta trasmettendo la diretta e se ci metto mano per mostrarlo è un disastro però aprendo Google foto per la prima volta viene chiesto se si vuole attivare la sincronizzazione il backup e sincronizzazione quindi il salvataggio delle foto sulla nuvola in definitiva dicendogli sì le foto dopo che gli ho detto di sì vanno sulla nuvola attenzione che se io ho 100 foto nel mio telefono e gli dico di sì ci impiegano un po' andare sulla nuvola perché sono tante ci vuole un po' di tempo quindi la prima volta prima che Google foto si riempi può passare del tempo successivamente Google foto provvederà a mandare sulla nuvola le foto che ho fatto nella giornata e quindi ci impiegano meno quindi se sono 3, 4, 5 foto ci impiegano meno tempo ad andare Tiziano ciao Daniele anche i contatti merita metterli sulla nuvola in quale cartella si trovano? li troviamo qui ragazzi allora vediamo se riesco a mostrarlo vado su Google eccomi qua prendo una pagina vuota ora non ho idea di che contatti ci siano su questo account non dovrebbero esserci contatti personali che non vorrei mostrare per privacy dei contatti ma vabbè allora io sono col mio account premo i quadratini le app di Google e ci sarà contatti da qualche parte vediamo contatti premo e qui vedo i miei contatti ok ne vedo già un sacco li vedo qua sotto li lasciamo così senza mostrare numeri e quant'altro perché ce ne sono tanti quindi chiudo per questione di privacy per questione di privacy loro più che mia e quindi i contatti ci sono già basta andare su contatti e li vedo quindi posso verificare le cose che ho sulla nuvola andando a premere abbiamo detto in questa posizione qui e qui c'è tutto quello che c'è anche sul telefonino questa posizione apre applicazioni nuvola Gmail la posta elettronica le foto abbiamo detto già i contatti poi ci sono i documenti di Google ci sono un sacco di cose tutto quello che si usa con la nuvola di Google vediamo cosa dice Mattia quale software usi per interagire con il mouse il cellulare sul pc esiste un metodo per scaricare tutti i dati caricati sulla nuvola sì esiste un metodo ora non me lo ricordo ma c'è una funzione apposta che ti fa scaricare tutto quello che hai sulla nuvola ci impiegano un po' a renderteli disponibili però Google te lo fa fare ne ho già parlato in un video passato ma chissà dove magari in una delle prossime volte se mi ricordo lo andiamo a vedere mentre invece Mattia sempre Mattia diceva ma quale software usi per interagire con il mouse e il cellulare sul pc io utilizzo visor scritto questo in sostanza scritto così che ora non lo può fare ma è questo questo visor ce ne sono tanti questo visor io lo trovo comodo funziona bene col mio telefono con Android 8 ora vedremo col 9 come andrà vedo il telefono sul desktop del mio computer e con la freccia del mouse posso anche andare a toccare e fare le cose e quindi funziona bene vediamo Oscar però facendo una foto con il telefonino va sia nella galleria che su Google foto esatto facendo una foto con il telefonino va in galleria e quando arrivo a casa che il mio telefonino si collega al wifi va anche su Google foto se voglio spaiarle se voglio far sì che siano solo su Google foto ogni tanto vado su Google foto rigline scelgo libera spazio così lui controlla tutto quello che è arrivato sulla galleria su Google foto viene tolto dalla galleria senza cancellare nulla di irreparabile ovviamente vediamo cosa dice Vittorio parla con Veronica e quindi lasciamo stare non leggo neanche allora Veronica se ci sono bene però non hai fatto il libera spazio e quindi te le prende direttamente dal tuo dal tuo telefonino senza scaricarle dalla nuvola se hai spazio sul tuo telefonino bene altrimenti quando il telefonino sarà pieno fai libera spazio per guadagnare spazio memoria e quindi poter andare avanti però la prima volta quando le deve visualizzare se hai una connessione telefonica lenta potrebbe impiegarci tanto ma io è una cosa che ho visto molto raramente solo in determinate zone allora torniamo a Vittorio vengono solo mostrate ma non effettivamente caricate nel cloud ecco ok ha già risposto lui Sergio la cavia sono io per quanto riguarda il Android 9 ma dopo lo faccio anche io già da questa sera Giancarlo ciao mi puoi cortesemente dire come fare l'intero backup di Android sulla nuvola di Google e non esiste l'intero backup di Android sulla nuvola di Google in realtà sì in realtà sì c'è un comando da impostazioni dipende da che telefono hai perché ogni telefono ha il suo comando comunque è dentro impostazioni salvataggio backup cercalo un po' a naso dovresti trovarlo viene fatto un salvataggio completo del telefono all'interno della nuvola Google così che da poterlo recuperare poi sul telefono nuovo questa cosa si usa quando cambi telefono fai il backup di tutto del vecchio telefono sulla nuvola Google così poi telefono nuovo dandogli lo stesso account del vecchio perché così deve essere recupera tutto quanto però non posso mostrarlo e quindi siamo sempre lì perché altrimenti mi salta la linea come si fa a togliere il wifi basta spegnerlo Sergio adesso non capisco a fondo la domanda e quindi mi sembra troppo semplice la risposta che ti ho dato come posso farlo per caricarle più velocemente linea telefonica più veloce wifi migliore e se no pazienza le prime volte ci vuole solo un po' di tempo Veronica Alfredo ho cambiato telefonino e ho preso un Asus bravo bravo Alfredo ottima marca ottima scelta Federico PLC lo sai usare? no mi dispiace non so usare Tiziano ciao come si fa a mettere la foto di sfondo su Google e sai che non mi ricordo ci abbiamo guardato una volta e ci siamo riusciti ma non ho idea di come ho fatto in questo momento ti direi il tasto destro ma non credo proprio e dovrei che qualcuno adesso in chat ce lo dice io non mi ricordo come ho fatto a cambiare queste impostazioni Federico dice hai un conto unicredito ora lo sanno tutti eccolo qua non è detto magari vado a vedere il sito sì in realtà sì ma lo sanno tutti anche per altri motivi lo possono sapere volendo allora Veronica allora devo impostare backup e sincronizzazione e se vuoi che funzioni tutto quanto sì devi avere impostato questo però vedi tu se il tuo telefono ti va meglio così è così Giancarlo me lo puoi ripetere per favore sai che non mi ricordo che cosa ti avevo che cosa era il discorso note 4 non so se avete scritto tra voi o se era una cosa rivolta a me Sergio dice da Google Photo intendo togliere il wifi da Google Photo nelle impostazioni nelle righine impostazioni c'è per quanto riguarda la sincronizzazione e il backup vuoi dire che lo faccia solo tramite wifi o anche tramite dati internet è proprio un'impostazione piuttosto semplice e anche qui mi dispiace di non poterlo mostrare Lorenzo sono arrivato ora ciao Lorenzo siamo alla fine ma benvenuto lo stesso ma per dire abbiamo proprio finito allora Daniele quando devo rivedere una tua diretta ti vado a cercare per data allora per vedere una mia diretta se sei tra gli amici Maggiolina qui c'è archivio registrazioni dirette queste vengono messe così come sono quindi questa ha avuto interruzioni cose varie e sono tutte e due lì queste dirette diversamente puoi andarci avendo ricevuto l'email quindi per gli iscritti al canale ricevono la notifica gli arriva alle 8 quando cominciamo il messaggino per dire Daniele in diretta associazione Maggiolina in diretta da lì puoi cliccare e andarle a vedere sempre diversamente ancora di solito se la diretta ha qualche problema come oggi che si è spezzata io la sistemo e la domenica la ripubblico tutta quanta unita quindi per chi non ha modo di vederla prima domenica se tutto quanto tutto quanto unito qualche tutorial su app per modificare foto sì ci arriveremo Oscar noi parleremo di una molto famosa in questi giorni tra l'altro presto prestissimo va bene salutiamo Isaia ciao Isaia ok ragazzi eh sì infatti Federico dice la prima cosa la sicurezza in rete è una cosa importantissima te lo dice un collega informatico è assolutamente sì password e tutti questi discorsi poi magari approfondiamo Federico qualche volta devi fare un tutorial per scaricare Ubuntu 32 bit penso di averlo già fatto ma ci possiamo lavorare anche ok mi fermerei qua ragazzi allora fermiamoci con la pagina degli amici di Maggiolina dietro grazie è stato un piacere dobbiamo fare ancora un discorso sul percorso dei file che oggi non siamo riusciti a fare perché le domande che ho scelto poi hanno suscitato a loro volta altre domande per cui è stato molto molto utile e allora ci vediamo martedì prossimo in diretta ci vediamo tutti i giorni ormai sul canale con un nuovo video e presto alle 21.30 per gli amici Maggiolina in conferenza a più tardi ciao ciao Grazie a tutti.